musica bella ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di SennaroZu2 oggi come vi avevo già promesso e porto un gameplay di minecraft sulla pocket edition oggi vi porto un survival che è molto probabilmente e continuerà nel tempo allora chiamiamolo ASD perché è figo ASD geniamo subito il mondo ok building terrain vai andiamo scusate se leggerà un pochino ma probabilmente è chiuso la registrazione ok subito legno 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 mazza se leggerà ok altro legno subito dobbiamo fare un po' di legno perché sennò perché sennò siamo convinciti di essere poco poveri poco poveri li che non c'erano niente tipo un bel punto almeno vediamo di prendere un po' di legno torno subito appena ho preso un po' di legno eccoci qui ecco ho preso un bel po' di legno e ora andiamo subito a farci gli assi di legno ok subito tante 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 azzi tutte assi di legno guarda 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 non c'è una cosa per legno vabbè ci dovrebbero costare ok una crafting qualche bastoncina che non devo fare bastoncina ok ora andiamo subito un po' di legno ok iniziamo subito a farci mettere una crafting table quel crafting table di conseguenza ci ricostruiamo un peccone una sparda un'ascia col peccone andiamo subito a prenderci un pochino di piede che crede essere ma non crede non è pieta ok fa niente fa niente perché non riesco ad andarmene vabbè due style spero ci rimarrò bene andiamo subito e ci rimarrò i peccoli sono essenziali perché le pecore hanno l'ana che si vede nel letto con le letto possono dormire pensate se non dormia prima notte poi si è morto e poi spero un po' di più per stare ok ok l'ha droppata l'ha droppata lana ok ora andiamo non ci vediamo pecore le pecore salta 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 me torniamo 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 L'importante è che ci abbiano la lama Ecco, l'importante è che ci abbiano la lama Perché non sopravviviamo senza lama Andiamo subito a farci il letto Sì, vedi, ci facciamo una chest E va, per ora va Ok, ora mi farò una piccola baracchetta di legno E ci vediamo subito Ok ragazzi, stavo facendo una piccola baracchetta Ho raccolto un po' di roba, si è fatto a notte E ora andiamo, perché ho trovato tipo una cassa a bon Sontente un po' di roba Quindi andiamo a prenderci questo po' di roba Per cui il letto E andiamo a dormire Anche senza tempo Perché metto i barboni senza detto Ok, eccoci qui Eccoci qui Ora finiamo di fare la nostra baracchetta E provo a prenderlo off camera E che dire, per questo vi sa oggi è tutto E noi ci vediamo alla prossima Bella Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti